Grazie a tutti. Grazie a tutti. Velocizzate per farli più veloci. Infatti qui il tagliato non lo andiamo sulla parte. Aldino forgot to raise the blade first, the front clamp. He forgot to do it in the beginning because I told you that you can do it in the beginning. Guardate anche questo, si apre piano, si vive piano, un po' solo ci dà. So all these movements can be speed up. Con questo sistema torno 4 secondi. And this section we save 4 secondi per show. Non verrà mai bene come posizionarlo sopra, però viene abbastanza bene. So the quality is still better in the other way. Yeah, I noticed that. If you wait for the 2 secondi. I was noticing the vent is blown out and then it pushes so it's not, when you hold it flat, it comes out better. Anche perché lo stengo steso anch'io, anche il davanti viene perfetto. No, the front is fine, but it's not so good. Watch, if it's sticking out and then it's going to mess. So you have something round and you try to make it flat, it doesn't come out straight. So it's better the other way. It's better the other way. Si preferisce l'altro modo, quello più lego. Because the quality over here. Everything is a compromise. It's a compromise, è un compromesso. No, noi abbiamo fatto tutti i tipi e poi chi lavora...